9 episodi di furti e rapine nei soli primi 6 mesi di quest'anno, 7 nel 2023, 3 nel 2022. A fronte di questa evidente escalation del disperato sforzo con il quale tentiamo di difenderci, è fondamentale che lo Stato intervenga senza indugi con uno speciale rafforzamento del presidio del territorio che blocchi ulteriormente crescita e radicalizzazione di questi fenomeni malavitosi. E' questo l'appello di Giordana Giordini, presidente degli Orofi di Confindustria Toscana del Sud e della Consulta Orofa, che interviene sul tema della sicurezza in vista della riunione in prefettura di mercoledì 10 luglio assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Siamo grati al prefetto prosegue che ha raccolto le nostre istanze dopo l'ultima rapina che dimostra la disinvoltura e la sfrontatezza dei malviventi che hanno agito in pieno giorno aggredendo titolare, dipendente e cosprai urticante mettendo a segno il colpo con un ingente bottino. Noi imprenditori non possiamo contrastare azioni di questo tipo. Gli strumenti di difesa passiva di cui dispongono le aziende non possono sostituire l'ordine e la sicurezza garantiti dalle forze dell'ordine e a chiedere di ottenere rinforzi era stata proprio la stessa prefetta. In ragione proprio della particolarità che presenta Arezzo da questo punto di vista. Quindi la particolarità che si determina anche rispetto ad altre province di analoghe dimensioni proprio per la presenza del distritto Orafo. Va da sé che però l'azione deve essere corale e quindi da questo punto di vista ci vuole la massima collaborazione da parte delle aziende, la messa a punto di tutti i sistemi anti-intrusione e la verifica che effettivamente questi sistemi funzionano. Da parte nostra, da parte del Comitato, da parte delle forze dell'ordine c'è l'impegno massimo a garantire la presenza sul territorio che viene ed è stata anche implementata con la messa a punto e la messa in funzione di un numero cospicuo di telecamere che riescono veramente a monitorare tutta la realtà territoriale della città in modo tale da mettere insieme in campo tutte le forze possibili per rendere l'azione sempre più efficace e tempestiva.